bene ragazzi eccoci qua si parte il beta è qua adesso sapete cosa andiamo a fare andiamo a finire un po la gomma perché è quasi finita e voglio cambiarla adesso andiamo a fare due raspate un po di asfalto un po di sterrato plicciotto niente di estrema e niente la stagione cominciata con il beta vi invito ad andare a vedere gli altri video delle manutenzioni uscirà dopo di questo uscirà un video con le grafiche perché voglio tolto le grafiche faremo un video dove monto le grafiche nuove bellissime spettacolari se vi piacciono questi video delle endurate poi anche i giri con il k iscrivetevi campanella e solita solfa insomma andate a vedere la playlist se volete giù in descrizione ci sono le varie vari accessori per le moto e niente dai partiamo cazzo due mesi che non vado più in moto cazzo quella è rapata bello è bello della fare coi tacatati vediamo come canta il beta qua canta il beta ragazzi eh abbiamo cambiato l'olio gomma finita dietro e via derapati derapata full gas cazzo vai questa la faremo per provare il k con un nuovo scarico uuuuuh uuuuh uuuuh che rapata cazzo troppo bello uuuuh 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 voglio finire la bomba uuuuh uuuuuh uuuuuh uuuuh uuuuh um uuuuh uuuuuh Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa sì, questa. Grazie a tutti. 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 Bene ragazzi, nei boschi che arriveranno e torneranno verdi tra qualche mese, tra poco qui c'è il Betasque. Un saluto a tutti. Un saluto a tutti e mi raccomando, solita solfa, campanella, iscrizione se vi piacciono le Endurate e le Two Stroke Full Gas. Saluto a tutti. Saluto a tutti ragazzi.